Taranto, un altro mezzo, un altro bus di Chima Mobilità Amat in avaria. Mi trovo su Viale Ionio e guardate, un bus, c'erano anche dei passeggeri, si ferma, arriva il mezzo meccanico, l'officina così temporanea, l'officina di soccorso mobile e interviene. Era una linea, è una linea anzi di fine corsa a Talzano 23. Allora mi domando, caro sindaco Melucci, caro assessore alla mobilità sostenibile Mattia Giorno, caro Alfredo Spalluto, non so se al momento in cui andrai in onda questo servizio tu sarai ancora presidente dell'AMAT, sta di fatto che in ogni caso questi bus si caratterizzano purtroppo sovente per le avarie. È completamente diversa la realtà che viviamo tutti i giorni, da quel paradiso terrestre, da quella fantasia, da quelle chiacchiere che volete a tutti i costi rappresentarci, facendo vedere una città in cui i trasporti pubblici sarebbero il fiore all'occhiello. Vi sciacquate la bocca con le BRT, con questi collegamenti innovativi, altamente tecnologici. Abbiamo visto Spalluto, Mattia Giorno, che sono andati a Parigi, in Francia, per l'acquisto di nuovi bus. Ma che cavolo serve comprare i nuovi bus? Sciacquarvi la bocca tanto con queste fantasie, con queste immagini megagalattiche, avveniristiche, se poi in città girano i catorci, in città girano i catorci, che alcune volte prendono fuoco e che spesso si fermano, avaria, avaria. Caro Mattia Giorno, vieni qua, vieni a vedere quello che accade. Tu fai tanto il fighetto politicamente parlando. Vai qui, vai lì, vai a Barcellona, vai a Parigi, vai in Italia, vai all'estero. Parli di mobilità sostenibile, dici che i cittadini devono fare uso del mezzo pubblico e invece abbiamo questi catorci, abbiamo, abbiamo questi catorci perché in città ne abbiamo tanti di bus che sono dei catorci, che andrebbero rottamati e invece stanno in circolazione e proprio perché sono dei catorci puntualmente si fermano, si arrestano e appunto si verificano le avarie, creando dei disagi all'utenza, pesanti disagi all'utenza. Immaginate quei poveretti che stavano usando il mezzo, ma è possibile una cosa del genere? Io potrei capire tutti i limiti, ma almeno abbiate il coraggio di tacere, voi ve la profumate, voi ve la profumate, parlate, io quando sento parlare di BRT mostrate i nuovi bus tecnologici, dove stanno questi bus, a che servono questi bus? Dove stanno? Non lo so, nel deposito, vengono usati solo per i croceristi, non lo so, però i pullman che camminano, che circolano per la città sono questi, sono i pullman della preistoria, preistoria, pullman che puntualmente si fermano, è assurdo, è assurdo, guardate, ci sono le persone che sono rimaste sul bus, che stanno aspettando sul bus, che sono bloccati nel bus, capito Melucci, capito Mattia Giorno, capito Alfredo Spalluto e spero che lo capiate anche voi, cittadini tarantini, ecco l'immagine di Taranto, l'immagine dell'amministrazione Melucci, un'amministrazione che ha reso Taranto una città, passatemi l'espressione, in avaria permanente e che ci riempie la testa di chiacchiere, ora basta, queste sono le immagini che politicamente vi sputtanano.